Buonasera a tutti e bentornati in diretta negli studi di utg.net. Dopo la sconfitta interna di ieri pomeriggio contro il Genoa impazza il Totonomi per la successione di Massimo Rastelli sulla panchina del Cagliari in pole position, lo vediamo anche dal nostro sito, l'ex tecnico di Palermo e Udinese Beppe Iachini, tra gli altri nomi anche quello di una vecchia conoscenza del Cagliari, Davide Ballardini, che per ora resta soltanto un'ipotesi, così come Zenga e altri. Per tutti i dettagli e per gli aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro Francesco Ereso che si trova in Via Maveli davanti alla sede del Cagliari Calcio. Buonasera Francesco. Buonasera Angelo, mi trovo esattamente di fronte all'ingresso del palazzo dove si trova la sede del Cagliari, mi trovo qua da qualche ora in attesa di capire se c'è qualche movimento in entrata o in uscita per quanto riguarda soprattutto la dirigenza. Diciamo che al momento ancora non ci sono ulteriori notizie sul futuro di Rastelli, nel senso che comunque più passano le ore più si fa strada la possibilità che il tecnico Campano resti sulla panchina del Cagliari. Intanto i motivi che portano a questa scelta, prima di tutto mancherebbe l'intesa proprio all'interno della società stessa, quindi tra i vari membri della dirigenza Rosso Blu sul futuro del tecnico del Cagliari. C'è chi lo vorrebbe confermare e chi invece punterebbe per un cambiamento, anche per dare una svolta a questa stagione sportiva iniziata probabilmente nel peggiore dei modi possibile. Come dice giustamente il nostro titolo, un altro dei motivi è anche quello del peso economico relativo ai costi dello staff tecnico a disposizione di Rastelli, che ricordiamo in estate è stato implementato notevolmente con gli ingaggi di Michele Santoni, Andrea Caronte e Agostino Tibaudi, per quanto riguarda collaboratori tecnici e preparatori atletici, insieme a loro ricordiamo sempre la figura di Nicola Le Grottaglie, già dello scorso anno vice allenatore di Rastelli, insieme a lui anche Dario Rossi, storico secondo del tecnico Campano, è formalmente demanzionato una volta arrivato Le Grottaglie come secondo, quindi un altro dei motivi che spingerebbero la società rosso-blu a nicchiare sul futuro di Massimo Rastelli è anche questo, cioè il fatto che comunque si sia fatto firmare un contratto biennale a tutti questi nuovi membri dello staff tecnico, membri come Michele Santoni che ricordiamo un'esperienza di livello anche con Ajax, Inter e Giovanili della Lazio, Agostino Tibaudi noto soprattutto per essere lo storico preparatore atletico di Antonio Cassano, e anche Andrea Caronti, ex collaboratore del Cagliari durante il periodo di Zola, poi rientrato nei ranghi durante questa estate. Per quanto dicevamo prima, per ipotetici sostituti, anche questo appunto il peso dello economico, dello staff tecnico sicuramente ha la sua importanza. I vari Iachini, Ballardini in realtà da quanto ci risulta non è un nome tra quelli accreditati, anche vista soprattutto la pregressa esperienza dell'allenatore romagnolo a Cagliari, con tanto di causa di procedimento giudiziario con la vecchia gestione, oppure anche nomi un po' fantasiosi come potrebbe essere quello di Walter Mazzarri, che sicuramente avrebbe un peso, anche lui il suo ingaggio, l'ingaggio del suo staff, andrebbero ulteriormente ad appesantire il bilancio della società Rossoblu, che già quest'anno è bene ricordarlo, ha dovuto sostenere le spese per la costruzione della Sardegna Arena e poi anche l'acquisto di Leonardo Pavoletti, ricordiamolo l'acquisto più caro della storia Rossoblu, con questi 2 milioni più i 10 per l'obbligo di riscatto. Quindi al momento tutto tace, però c'è questa situazione all'interno della società per cui alcuni vorrebbero dare una svolta decisiva a questa stagione con un nuovo tecnico e altri invece, per questioni di tipo anche economico che ci hai appena illustrato, preferirebbero aspettare ancora per vedere se la situazione non migliora o addirittura tenere rastelli ipoteticamente fino a fine stagione, ne dico addirittura perché dati i risultati delle prime otto giornate, Francesco insomma c'è poco da sperare bene al momento, ad oggi. Guarda Angelo, diciamo che l'esperienza di Rastelli in Rossoblu ha attraversato dei momenti critici, già durante l'anno della Serie B, quando a un certo punto, probabilmente anche per la mancanza di stimoli, non lo so, insomma comunque la famosa primavera un po' nera, diciamo così, del periodo di Rastelli dove il Cagliari rischiò di, non dico di compromettere la promozione diretta in Serie A, però inanellò una serie di prestazioni negative che fecero iniziare a tribolare un po' la piazza rosso-blu, soprattutto nei confronti del tecnico campano. momento simile a quello vissuto poi la stagione scorsa a cavallo dei mesi di novembre, dicembre, inizio gennaio quando si parlò di uno spogliatoio diviso di parte della squadra non esattamente allineata alle disposizioni di Rastelli e poi ci fu la famosa vittoria per 4-3 contro il Sassuolo in rimonta, il turno pre-natalizio che poi diede la scossa alla stagione rosso-blu, ricorderai venne mandato via un pilastro dello spogliatoio come Marco Storari, ci furono alcuni episodi un po' così come per esempio la sostituzione di Daniele De Sena che lanciò la fascia di capitano in terra oppure Marco Storari che rifiutò la stretta di mano, lo stesso a Rastelli nel momento della sostituzione, quindi insomma tutta una serie di segnali non esattamente positivi già lo scorso anno. Poi ci fu la salvezza che arrivò con largo anticipo e quindi la naturale conferma di Rastelli come allenatore del Cagliari anche per questa stagione. Ecco le premesse quest'anno, esatto Francesco appunto immagino che stavo per anticiparti insomma non è nata sotto i migliori auspici questa stagione perché proprio con il Sassuolo tra l'altro è iniziata la parabola decrescente delle ultime giornate, tra l'altro il Cagliari domenica sera è atteso all'Olimpico dalla Lazio che è in grandissima forma come abbiamo visto alla straordinaria vittoria allo Stadium contro la Juventus e poi avrà il Benevento in casa e il Torino ma a questo punto nessuna partita è più scontata sotto il piano dei risultati neanche alla Sardegna Arena. Esatto, la Sardegna Arena doveva costituire il fortino inespugnabile nelle intenzioni di Rastelli e della società Rosso Blu, un po' sulla falsariga di quello che fece il Sant'Elia lo scorso anno dove effettivamente gran parte dei punti conquistati per la salvezza dalla squadra di Rastelli vennero poi conquistati tra le Muramiche. Quest'anno il ruolino di marcia della Sardegna Arena appena inaugurata diciamo non esattamente dei più positivi su quattro partite tre sconfitte una sola vittoria tra l'altro di misura contro il Crottone anche lì una partita non esattamente spettacolare ma alla fine il Cagliari riuscì a portare via i tre punti contro Sassuolo, Chievo, Napoli e poi adesso Genoa quattro sconfitte di fila nelle quali il Cagliari ha mostrato un'involuzione sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista tecnico. contro il Genoa un primo tempo assolutamente regalato, verrà ricordato per l'esordio di Gregory van der Ville un esordio veramente quasi imbarazzante potremmo dire per come è andata la prestazione dell'olandese probabilmente non ancora pronto per poter esordire e anche questa potrebbe essere una delle scelte che potrebbero costare il posto a Rastelli ma ripetiamo siamo al pomeriggio di lunedì quindi sono passate quasi 24 ore rispetto alla sconfitta di ieri col Genoa domani a quest'ora ci sarà il primo allenamento settimanale anzi si starà per concludere il primo allenamento settimanale non ci sono ancora segnali di un cambio e anzi più passa il tempo più Rastelli potrebbe riuscire a confermare il proprio posto come allenatore del Cagliari è possibile arrivati a questo punto anche una possibile soluzione interna un avvicendamento quindi di Rastelli con qualcuno dei membri dello staff tecnico dico qualcuno perché in realtà sono tanti i possibili candidati da già citato Michele Santoni all'allenatore della primavera Max Canzi entrambi in possesso del patentino per poter allenare direttamente in Serie A senza deroga deroga che invece sarebbe necessaria in caso di promozione di Nicola Legrottaglie oppure anche di David Suazzo ad allenatore della prima squadra dico David Suazzo perché sarebbe diciamo un colpo all'accellino è una di quelle scelte interne che ricorderebbe un po' la vecchia gestione come quando venne promosso Diego Lopez in prima squadra oppure Gianluca Festa ecco qualcuno dei nostri lettori tra l'altro fa proprio il nome di Diego Lopez nei commenti alle nostre dirette insomma è uno dei papabili quantomeno insomma tra i nostri lettori credo che in realtà il nome di Lopez sia da scartare anche perché insomma sì è vero è una bandiera del Cagliari ma soprattutto dal punto di vista della sua esperienza da giocatore durante le sue esperienze da allenatore non ha sicuramente lasciato il segno sarebbe un segno di continuità probabilmente rispetto al passato con la sua vicinanza al gruppo storico dei senatori ma insomma onestamente non lo ritengo un nome probabile così come ripeto c'è difficoltà a trovare un nome valido da poter spendere ed è anche questo uno dei motivi per cui ancora non è stato esonerato Rastelli c'è la mancanza di un candidato veramente autorevole da poter dire bene chiamiamo lui e risolviamo i problemi insomma tutto da vedere ancora Francesco ovviamente noi ti lasciamo lì davanti alla sede del Cagliari dove hai preparato il giociglio anche per la notte tra l'altro non distrarti perché vediamo vediamo movimenti in uscita e in entrata anche dalla sede del Cagliari quindi insomma aspettiamo tuoi aggiornamenti chissà che non siano possibili candidati esatto nel caso ovviamente ci ricollegheremo in diretta con te grazie ovviamente Francesco per questo primo aggiornamento sulla vicenda Rastelli grazie a voi tutti per averci seguito l'appuntamento come sempre e a più tardi arrivederci grazie a voi grazie a voi grazie a voi